Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo si sono sposati. Sabato 20 luglio in Toscana, nonostante la coppia si sia trasferita in Inghilterra da qualche anno. Tra gli invitati c'erano Edoardo Tavassi, Micolin Corvaia e tanti altri personaggi noti dello spettacolo. La coppia si è scambiata le promesse di matrimonio in un agriturismo toscano davanti ad alcuni volti noti del mondo della tv e del cinema, coronando così il loro sogno di sposarsi. L'attore, da sempre riservato, aveva parlato delle nozze imminenti in un'intervista qualche settimana fa. Alcuni dettagli dell'evento sono stati pubblicati su Instagram da Micolin Corvaia. Un video riprende la location, poi si vede Edoardo Tavassi abbracciare lo sposo, mentre una fotografia immortala i ventagli con la scritta. Nicola Seali, realizzati per tutti gli ospiti. Infine Vapore di Sintona e il Brano Notte prima degli esami accanto ad alcuni amici. Ma nient'altro ci è dato sapere. Ari conferma che la coppia tiene molto alla propria privacy. I due, dunque, hanno optato per fiori colorati, tovaglie bianche e sedie in legno. La cerimonia si è svolta all'aperto con gli amici più intimi e i familiari. Lei ha indossato un abito constrascico che le lasciava la schiena scoperta e un lungo velo. In precedenza, sul suo amore per la fidanzata, l'attore aveva dichiarato alla Repubblica, è un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così farò con lei. E aveva anche aggiunto di essere pronto a diventare papà, nell'eventualità che arrivasse un bebè. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.